Praticamente nell'antichità il foglio di carta non era bianco, era nero, come il caffè, il caffè non è così color caffè, è arancione, cioè arancione, capito? Il foglio era nero per cui sopra non ci potevi scrivere niente perché non si vedeva, non c'era le robe bianche per scrivere. Ma tanto loro non serviva, cioè hanno inventato la carta, ma non la usavano perché scrivevano ancora con i geroglifici sul muro. Le carte le arrotolavano e se le lanciavano dietro così a scuola come facciamo noi. Poi un giorno uno ha detto, eh, ho un'idea e scrivo sopra qua. Però non si vede niente. E allora hanno fatto un sbiancamento del foglio di carta. Adesso i fogli ce li abbiamo, tanti, ce li fanno, uccidono tutti quanti gli alberi, la foresta amazzonica per avere dei bei fogli bianchi. Va bene, progresso, grazie a Thunberg. Però cosa ci facciamo con questi fogli? Cioè, non ho idee, non ho niente da scrivere, non ho idee.